Nel video di oggi vedremo come procurarci una versione di Ubuntu, una versione di una Virtual Machine e installeremo Ubuntu all'interno della Virtual Machine per utilizzarlo sul nostro computer. Che cos'è una Virtual Machine? Una Virtual Machine è un'applicazione che ci permette di creare sostanzialmente una vera e propria macchina, un nuovo computer all'interno del nostro sistema operativo e sono assolutamente indipendenti. E' una procedura molto comoda per provare i sistemi operativi nuovi che non conosciamo in modo tale da verificarne la compatibilità con il nostro hardware. Dobbiamo procurarci sostanzialmente due file, Ubuntu 17.04 e VirtualBox. Il primo è il sistema operativo e il secondo è l'applicazione che ci permetterà di provarlo. Andiamo subito su ubuntu.com, sito ufficiale della distribuzione. Esiste anche la versione italiana di questo sito, se andate a vedere sotto il video vi ho messo il link. Scarico da qua, comunque mi sembrava più giusto. Andate sul desktop, download Ubuntu e qui ci troviamo subito davanti a un piccolo dilemma, nulla di tale. Ci sono due versioni attualmente disponibili per Ubuntu, in realtà questa non è vero, ce ne sono tre, ma vedremo più avanti. La prima versione è la 16.04.2 LTS. LTS sta per Long Term Support, ovvero sia questa versione verrà supportata per 5 anni. È stata rilasciata ad aprile del 2016 e quindi fino ad aprile del 2021 questa distribuzione verrà supportata dagli sviluppatori e quindi sarà sempre aggiornata. Poi c'è la versione Ubuntu 17.04, rilasciata più recentemente ad aprile del 2017, che però ha un periodo di supporto di circa 9 mesi, quindi ogni 9 mesi la dovrete aggiornare. La differenza tra le due non è tantissima. Io sul mio computer utilizzo questa, la LTS, ma più che altro perché senza dover ogni volta aggiornare le versioni nuove, so che questa viene sempre aggiornata, quindi non incorro in nessun problema. Se invece vi piace sempre essere al pari, diciamo, con le ultime novità, sicuramente la Ubuntu 17.04 fa il caso vostro. Tra l'altro l'ottobre uscirà appunto la 17.10 e potrete già provare quella. Dal momento che siamo qui per provare, io proverò la 17.04. Qui posso scegliere di scaricarla direttamente dal sito oppure ho delle alternative. Posso installarla direttamente dalla rete. Poi c'è la versione BitTorrent, che è quella che uso io, e poi, ad esempio, posso scaricarmi l'immagine, diciamo, da altri sito mirror, che magari possono essere più o meno veloci rispetto alla mia posizione. Come vi dicevo prima, è disponibile anche la versione 14.4.5 Long Term Support, che scade appunto nel 2019. Proviamo comunque la 17.04. Beh, ci sono due versioni, desktop e server. Io scarico la desktop, perché il server sostanzialmente non è quello che mi interessa provare adesso. Io voglio provare il sistema operativo, quindi lasciamo perdere il server, che tra l'altro non ha neanche il comparto grafico. E mi scarico quella a 64 bit, perché il mio computer è a 64 bit. Dovete andare a vedere le vostre specifiche del vostro computer per vedere quale versione dovrebbe fare al caso vostro, se è la 64 bit o la 32 bit. Diciamo che comunque i computer più recenti sono quasi tutti a 64 bit. Io non la scarico, perché, come avete visto, l'ho già scaricata precedentemente. Adesso andiamo a prelevare, sempre dalla rete, la nostra virtual machine. E andiamo su virtualbox.org. Abbastanza semplice, scarichiamo la versione 5.1. Scegliete, chiaramente, in base alla vostra piattaforma, Windows, Mac o Linux, e scaricate. Anche in questo caso io non lo faccio, perché ho già scaricato il software. Possiamo partire con l'installazione, iniziando ovviamente dall'installazione delle virtual machine. Doppio clic, esegui. Eccoci qua. Next, next. Next, yes, install. L'installazione è andata a buon fine, possiamo chiudere l'installazione e far partire direttamente la nostra. Eccoci arrivati dunque alla configurazione delle virtual machine. Iniziamo con, appunto, creare una nuova macchina virtuale. Questa macchina virtuale daremo il nome di Ubuntu, tipo Linux, e versione a 64 bit. Chiaramente, se precedentemente voi avete installato una versione a 32 bit, dovrete cambiare con Ubuntu a 32 bit. Mi sembra ovvio. Qui dobbiamo selezionare la quantità di memoria RAM in megabyte, che sarà allocata per la macchina virtuale. Fermo restando che dovete restare all'interno di questa linea verde. Io direi che andrò a prendermi circa la metà dei miei 8 giga di memoria RAM. Dovrebbe essere, anzi lo è, sicuramente un numero di sicurezza. Questo va in base anche alla vostra memoria RAM. Il disco fisso, crea subito un nuovo disco virtuale, andiamo a creare, virtual box disk image. Qui possiamo scegliere tra allocato dinamicamente o dimensione specifica, io rimango sull'allocato dinamicamente. E qui posso scegliere la dimensione, almeno 20 giga dai. Ho creato la macchina, adesso me la devo un attimino settare. Quindi con la macchina selezionata vado ad impostazioni, sistema, abilità IOAPC e abilità. Orologio Hardware in UTC. Processore. Io direi di utilizzare 1. Controllo il numero della cipi della macchina virtuale. Ok direi 1. Accelerazione predefinita. Ok. Andiamo sullo schermo. Memoria video, io direi al massimo. Abilitiamo l'accelerazione 3D. Andiamo sul nostro dispositivo di archiviazione. Controller IDE. E andiamo a selezionarci la versione di Ubuntu. Anzi. Vi selezionate la ISO appena scaricata. E direi che a questo punto ci siamo. Premiamo su OK. E tutto dovrebbe essere pronto per partire. Ora che abbiamo settato per il meglio, possiamo partire, far partire la nostra macchina. Premiamo su avvia, sempre con chiaramente la nostra macchina virtuale. Scelta. Lo visualizza. Io andrei subito su schermo intero. Qua sotto abbiamo il menu. Quindi se ci serve qualcosa. Se qualcosa non dovesse funzionare, possiamo tornare in modalità finestra. Sta partendo il nostro file immagine. Ed arriviamo in questa che è appunto la schermata di benvenuto. E con il menu qui possiamo scegliere di provare Ubuntu o di installarlo. Se fossimo, se non fossimo su una macchina virtuale, fossimo sul nostro computer reale, io suggerirei vivamente di provare Ubuntu. Try Ubuntu. Anzi, mettiamolo in italiano. Questo perché vi permette di provare il sistema operativo, si dice da live, ovvero senza installare alcunché sulla vostra macchina, in modo tale da verificare appunto il corretto funzionamento del vostro hardware. Noi qua invece partiremo subito con l'installazione perché questo è il nostro scopo, qui noi ce lo possiamo permettere. Quindi installa Ubuntu. Scaricare gli aggiornamenti durante l'installazione di Ubuntu? No, lo farò dopo. Installare software di terze parti per specifiche grafiche, wifi, flash, mp3, altri formati? Questo invece sì. Avanti. Tipo di installazione? Dal momento che non è stato trovato alcun sistema operativo all'interno della nostra virtual machine, perché in effetti non ve l'è, loro ci consigliano di cancellare il disco, di installare Ubuntu su tutto il disco. Sebbene questa possa essere un tipo di configurazione sicuramente molto semplice, dal mio punto di vista invece non è sempre la cosa migliore. Io preferisco gestire manualmente tutto, quindi vado su altro. E' possibile creare o ridimensionare le partizioni oppure scegliere partizioni per Ubuntu. Scelgo questa, altro, e vado su avanti. Bene, questo è il nostro disco, devsva, ed è il nostro hard disk da 21,5 gigabyte, che è quello che avevo scelto prima. Andiamo subito a selezionarlo e a creare una nuova partizione. Avanti. Qui aggiungiamo subito una partizione di swap. di 5.475 megabyte. Primaria e inizio di questo spazio. Ok. Quindi all'interno del nostro hard disk abbiamo creato una partizione che si chiama sda1 e che è lo swap. Adesso andiamo a selezionare il rimanente spazio libero e aggiungiamo un'altra partizione. File System che è da qua è xt4. Logica. E inizio di questo spazio. Punto di mount lo slash. Lo slash sta per root, è la radice. Queste sono cose che poi vedremo una volta che metteremo mano sul sistema operativo. Io qui non lo faccio perché secondo me potrei anche farlo in realtà ma non lo faccio. Teoricamente potremmo diminuire questa dimensione e creare un punto di mount home. Farne un altro con il root. In pratica che cosa cambia sostanzialmente? Cambia che se un giorno dovete aggiornare il vostro sistema operativo potrete aggiornare sostanzialmente e quindi formattare tutto il computer tranne la partizione home. Quella vi rimarrà sempre tale e quale. Quindi le vostre foto ad esempio, i vostri file musicali e quant'altro lo potreste ritrovare nella nuova versione del vostro nuovo sistema operativo. dal momento che comunque si tende, soprattutto i file anzi diventano sempre più grandi e si tende quasi sempre ad utilizzare hard disk esterni magari questa funzione si è un po' persa ma all'interno della cartella home comunque troverete tutti i file di configurazione di vostri software quindi una volta che vi ritroverete a dover scaricare nuovamente i vostri software vi ritroverete anche già settati quindi sarebbe anche interessante farlo. Non lo farò, andrò direttamente a crearmi appunto un punto di mount. Ok. A questo punto come potete vedere abbiamo creato, abbiamo il nostro hard disk sul quale abbiamo fatto due partizioni sda1 che sarà il swap e sda5 che sarà xt4 ed è sostanzialmente il nostro vero e proprio sistema operativo. A questo punto procediamo con l'installazione. Scegliendo di continuare le modifiche elencate di seguito verranno scritte sui dischi ok, perfetto e qui inizia l'installazione vera e propria. Allora la prima cosa è assegniamoci l'orario clicchiamo su avanti o anche in questo caso questa è sostanzialmente il layout della tastiera italiana e poi dovete scegliere tra italiana, italiana giorgiana, italiana IBM, Macintosh tastiera americana però in lingua italiana e via dicendo c'è un unico modo per provare iniziate a scrivere e a verificare se effettivamente i tasti speciali soprattutto si comportano come dovrebbero nel mio caso sì, quindi posso andare avanti o qui potete scegliere il vostro, il nome del vostro computer l'utente almi, scegliete la password qui potete utilizzare una password semplice da ricordarsi accedere automaticamente no richiedere la password personale per accedere sì cifrare le cartelle personale no, per il momento direi di no possiamo proseguire l'installazione intanto sta andando avanti vedete qua la barra di versamento e qua inizia tutta una schermata dove vi presentano sostanzialmente il sistema operativo io qui andrò un attimino più veloce e arriveremo subito nel punto che ci interessa bene, l'installazione è terminata e dobbiamo riavviare ed eccoci qua finalmente giunti alla schermata per eseguire il login come potete vedere il nome utente è già inserito dobbiamo soltanto inserire la password ed eccoci all'interno del nostro nuovo sistema operativo queste sono le scorciatoie da tastiera dove il tasto super sta nella tastiera per il tasto windows potete studiarvele se vi interessa questa prima parte è terminata nei prossimi video vedremo di iniziare a muoverci all'interno del mondo di ubuntu cercheremo di settare al meglio il nostro sistema operativo eventualmente controllare, verificare e risolvere eventuali errori ce qui si vorrei vedete grazie